Dichiaro aperta la votazione. Sull'inno di Mameli, cantato a destra e a manca, l'aula del Senato sospende la diretta tv del voto sull'autonomia differenziata, la zuffa politica è ormai partita, il PD sventola il tricolore, la bandiera della Liga Veneta fa capolino, state spaccando l'Italia sono i timori delle opposizioni, nessuna divisione, anzi l'opportunità di scegliere meglio la classe dirigente, la replica dalla maggioranza, passiamo brevemente in rassegna alle posizioni con le minoranze che annunciano la richiesta di un referendum abrogativo laddove la legge dovesse arrivare fino in fondo. Per il PD il provvedimento divide l'Italia in più stati, politicamente l'accusa la maggioranza di aver barattato la riforma voluta dalla Lega con quelle per il premierato voluto da Fratelli d'Italia e la riforma della giustizia firmata a Forza Italia. Lo prevede il programma e invece la replica della maggioranza con i meloniani che sottolineano il rischio di divisione è categoricamente escluso e le modifiche approvate al testo salvaguardano l'unità. Per Forza Italia si elimineranno le sacche dell'inefficienza e ci sarà grande attenzione al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni. La Lega parla di traguardo storico sottolineando che i divari nord-sud sono aumentati senza autonomia e federalismo, non secco ad un progetto ritenuto scellerato dal Movimento 5 Stelle. In Campania il governatore De Luca attuona contro i parlamentari del sud che hanno tradito il territorio. La replica del senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, il sud è tradito da chi governa come De Luca. Dal punto di vista procedurale il testo passa alla Camera, col via libera appare scontato il referendum delle opposizioni per chiamare i cittadini ad esprimersi.